Per capire quello che stiamo per dirvi dovete prima fare una cosa, dovete credere nell'impossibile. Siamo Alessandro e Federico Campaiola e anche noi ci alleniamo tutti i giorni da casa con il maestro Attilio Volpe Box. Sì, tutti i giorni alle 19, giusto? Alle 19 in punto ragazzi, non mancate! Noi siamo atleti veri, altro che voi che state a casa a fare finta dalle nabbe, noi si alleniamo davvero, giusto? Ma certo, ma sempre! Guarda come stiamo, pure la corda, quei quanti, noi siamo out, siamo out! Maestro, ma che c'è l'acqua? Non lo vado qui per controllarvi, forza! Dai! Non ti ci sacco, più forte, dai! Vinta, vinta, forza, forza, più forte! Ti c'ho paura, dai! È cattivo! È cattivo! Ti cazzo, vinta! Forza, questi push-up, dai, dai! Tutte le sere alle 19, Attilio Volpe Box, diretta Instagram e Facebook, vi aspetta tutte le sere, forza, non mollare! Alleniamoci da casa con Attilio Volpe Box, tutti i giorni, in diretta Facebook e Instagram alle 19. Allenati anche tu! Allenati anche tu! Allenati anche tu!